Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Gamesport E oggi ragazzi il nuovissimo video perché siamo su Fortnite Non ci gioco da un bel po' di tempo, anzi ho fatto due partite Su questo nuovo capitolo, capitolo 2, il remix del capitolo 2 Adesso andiamo anche un po' a giocare Ma come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti Iscrivendovi, attendo la campanella, quanto pubblico video, risponda sempre una feed o una notifica Basta premere le sede subito, poi all'interno di questi contenuti ragazzi Arriviamo a 50 visualizzazioni e se ci arriviamo ragazzi vado a soppare il pass di questa ragazzi Di questo capitolo 2 che non mi sta dispiando per niente la mappa, anzi è abbastanza carina Adesso ragazzi andiamo un po', vi ricordo di tutti i video score tutti i giorni alle ore 13 e tutti i shorts alle 10 Fino alle 19 di sera, quindi andiamo immediatamente dentro Fortnite Ed eccoci qua ragazzuoli Allora, vediamo dove atterrare, io direi ragazzi a Parco Pacifico Tutti quanti lo conosciamo, c'è anche Corso Commercio che ci vorrei andare onestamente Però per adesso andiamocene a Parco Pacifico, ci sarebbero anche le salvie sudate Vediamo un po' se ci arriviamo durante la partita Buttiamoci, spero che non sentiate il... Cioè, allora, voi sentite, lo sentite l'audio perché lo metto come traccia Perché penso che sia anche carino sentire gli spari e tutto della partita su Fortnite E io ho messo un po' il volume atto del monitor perché ragazzi vorrei sentire pure io Perché mi cerco mettere le buffe, onestamente Ho un mal di testa pazzesco, ho già visto un bel po' di contenuti Non voglio mettere le buffe, mi romperò i mal di Quindi, atterriamo qui Subito un qualcosa ce l'abbiamo Ecco, tipo, contro quello là possiamo andarci? No, perché quello ci spacca il culo Ecco, infatti, immaginiamo Cioè, no, ci ho spaccato io il culo Beh, direi, meglio di così non si poteva iniziare E no, se c'è qualcuno immediatamente ancora Mi pare che no Vabbè Dobbiamo allora, prima di tutto ci serve shield Ci servono armi, munizioni perché abbiamo una merita, minchiaun Ah, questo è il mio strano 48 fatto Easy, va bene Molto bene, molto bene, molto bene E a 2 kill ci siamo Ah, questa qua è molto interessante Allora, vediamo se possiamo prendere qualcosa qui La shield è tipo una cosa rara perché non ne trovo mai, porca troia, che merda Non si trova mai, vabbè Ho capito, possiamo andare C'è qualcuno qui davanti Vediamo se faccio il tempo ad arrivare Sarà in questa casa, forse sì Ecco, infatti Mi serve spazio, raga Easy Perfetto Perfetto No, questo ce l'abbiamo Vabbè, possiamo andare qua Stai scomminato la macchina? No, vero? Mi pare di no No, perfetto Mi sembra strano Vabbè, oh 3 kill in meno di 5 minuti Molto meno di 5 minuti Easy E qua ci potrebbe essere Un cazzo Oh, shield non ne troviamo, raga Benissimo Pistola a tamburo Potrebbe essere molto interessante Lo sapete? Adesso andiamo con questo qua Visto che non c'è un cazzo Nuovo livello, livello 5 Easy Cambiamo macchina Dalla stessa Nel cambio il colore Non trovo nessuno C'è qualcuno? Non mi pare Trovio Vabbè Allora andiamo a prendere un attimo Questo And the shield Ha deciso il gioco di non Di non darcela E noi ho più che bene Adesso ci sono 20 Gli altri E ora c'è qualcosa qui E noi ho più che bene 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 E noi ho più che bene